Questo è quello che sentiamo in reazione a ciò che vedremo tra poco, cioè il piano presentato da Mario Draghi per risollevare un'Europa che è in una condizione difficile. Un piano che gli è stato chiesto da Ursula von der Leyen e che oggi l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea ha presentato ufficialmente. Ma prima, visto che abbiamo visto la politica interna, possiamo rispondere come ogni lunedì alla fatidica domanda. Come andrebbe se si votasse oggi, secondo il sontaggio di SVG, così? Fratelli d'Italia perde meno di quello che temeva, probabilmente alla fine di una settimana certo non fausta. Come vedete lo 0,1% ed è al 30,2%. Guadagna lo 0,2% il Partito Democratico al 22,5%. Meno 0,1% quindi stabile il Movimento 5 Stelle, 11,5%. Forza Italia più 0,1% 8,5%. Lega 8,3%. Meno 0,2%. Verdi e sinistra più 0,3%. La forza che guadagna di più al 7,2%. Dietro, azione 3,2%. Stabile Italia Viva 2,6%. Più 0,3%. Anche se guadagna appunto la stessa percentuale di alternativa di alleanza Verdi e Sinistra. Più Europa 1,7%. Meno 0,2%. Pace, terra e dignità di Michele Santoro 1,1%. Meno 0,2%. Altre liste complessivamente 3,2%. Meno 0,1%. Aumenta di un 2% l'area di chi non si esprime e probabilmente non andrà a votare quando sarà. Che è 1 su 3, il 33%. C'è anche, se è stato composto, un altro quesito che abbiamo chiesto proprio sulla scia di quello che abbiamo sentito anche nei servizi. Sullo IUS scuole dopo 10 anni di scuola, il diritto di cittadinanza a chi fa 10 anni di scuola, non avendo in partenza la nazionalità italiana ovviamente. È d'accordo il 61%, nel senso che è del tutto d'accordo il 42%, più un altro 19% che dice, ma 10 anni sono anche troppo. Dovrebbero bastare i 5 anni del percorso scolastico primario. E quindi, d'accordo con l'introduzione del criterio dello IUS scuola, il criterio scolastico, come vedete, è un 61% che diventa la quasi totalità degli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra. E all'opposto, come vedete, solo il 16% degli elettori della Lega. Però vedete che sono favorevoli una larga porzione non solo del PD e di 5 Stelle, ma anche di Forza Italia e il 45% degli stessi elettori di Fratelli d'Italia. In disaccordo però c'è una porzione non trascurabile complessivamente, che è del 39%. Grazie. Grazie.